Buongiorno Buongiorno carissime amiche, buongiorno carissimi amici di Rossini TV, benvenuti alle 7.20 precise alla rassegna stampa della nostra emittente. La lettura dei quotidiani locali, iniziamo una nuova settimana nel segno della pioggia ma nonostante questo lo facciamo col sorriso, comunque sia il tempo è inclemente perché questa mattina era davvero da tregenda, pioggia, vento, strade totalmente invase dall'acqua ma siamo qui in redazione insieme a voi, insieme ad Andrea Marcelli che ci segue dalla regia per raccontarvi quello che è successo nel weekend della nostra città, della nostra provincia, della nostra regione. Subito un saluto a Michela da Borgo Santa Maria che è la prima ascoltatrice che ci ha contattato attraverso la pagina Facebook, ci potete seguire attraverso i social, attraverso la piattaforma streaming di www.rossinitv.it in diretta. E lunedì 23 gennaio inizia l'ultima settimana di gennaio, quindi siamo davvero a buon punto dell'inverno e l'inverno si è fatto sentire, si è fatto sentire a Urbino dove vediamo la nostra webcam questa mattina con la città sepolta dalla neve. Abbiamo visto la città di Urbino anche sabato mattina e di neve ce n'era poca, pensate in due giorni quanta ne è caduta, vedete quanto è suggestivo questo paesaggio così innevato, immacolato. Sappiamo che al di là della bellezza e della suggestione poi comunque ci sono tanti disagi provocati dalla neve, li vedremo anche nel corso della lettura dei giornali, ma vedere così comunque è davvero tutto molto bello, tutto molto immacolato e comunque il maltempo è destinato a continuare. Le locandine di Resto del Carlino e Corriere Adriatico, vedete, si concentrano non a caso sul maltempo e entrambe, sia quella del Resto del Carlino che del Corriere Adriatico sulla destra, ci raccontano purtroppo di un incidente stradale accaduto vicino a Cantiano e nel quale ha rimesso la vita. Un giovane di 22 anni, un giovane Umbro che purtroppo ha avuto un incidente col suo camioncino mentre tornava a casa dopo aver effettuato una consegna e per lui non c'è stato niente da fare. Il Resto del Carlino poi ci racconta anche del Pantano, del Benelli con la partita rinviata così come fa anche il Corriere Adriatico. Ed eccoci qui col Corriere Adriatico, prima pagina del quotidiano anconetano dal 1860, pensate, il quotidiano delle Marche e vedete, il maltempo fa danni e vittime. Strade ghiacciate, a Cagli more camionista di 22 anni, oltre 200 chiamate ai vigili del fuoco, anche oggi allerta resta alta, nell'interno diversi comuni hanno deciso di chiudere le scuole e questo lo vedremo, è un po' a macchia di leopardo. Mareggiate il grido d'allarme dei bagnini, la foto centrale della prima pagina del Corriere Adriatico che ci fa vedere purtroppo gli effetti devastanti del mare sugli stabilimenti balneari del litorale, soprattutto fanese. Una notizia di spalla che riguarda una giovane pesarese di 21 anni che si chiama Arianna Orazzi e ha deciso di cambiare decisamente vita, dando luogo a una sua pagina che è stata pubblicata sul sito Only Fans. Quindi lei ha deciso, a un certo punto faceva fatica a sbarcare il lunario con un lavoro, diciamo così, convenzionale e ha deciso di darsi a ben altra attività. Brutto risveglio con il terremoto, paura nel fanese, vedete, a Saltara. Quindi c'è stato anche questo solito risveglio della domenica mattina, ormai sembra un abbonamento, intorno alle 7 della domenica mattina trema la terra e tutti ci svegliamo con il letto che balla. San Benedetto senza fondi, tutti contro la regione, questo riguarda una polemica che è incentrata su una ristrutturazione di un palazzo storico nel centro di Pesano. E poi, via dicendo, sulle altre notizie, vedete anche la notizia che ci riporta la vittoria del Fano nel derby contro il Tolentino. Cominciamo a scorrere il Corri Adriatico e ci portiamo direttamente nella pagina della cronaca di Pesaro. Primo piano, Pesaro, trappola di ghiaccio sulla strada, muore un camionista di 22 anni. L'incidente alle 7.30 sulla Flaminia a Cagli, il ragazzo è volato dal viadotto per oltre 20 metri. Il ragazzo era al volante di un camion frigo con cui aveva da poco consegnato la merce a un supermercato della zona, quando con il mezzo ha sbandato all'altezza di un viadotto, finendo con la motrice contro un guardrail laterale della sede stradale. Purtroppo il corpo è stato sbalzato fuori, è finito nel crepaccio, ha fatto un volo e vedete questa drammatica foto che fa vedere il recupero del corpo del giovane 22enne. Il giovane 22enne, pensate che era residente in Umbria, di origini albanesi, 22 anni, si chiamava Petrit Jashari, faceva un lavoro durissimo, immaginatevelo questo ragazzo che la domenica mattina per consegnare la merce nei supermercati era già in strada a quell'ora, stava tornando perché aveva già effettuato la consegna e parliamo di una domenica mattina, in un giorno veramente improbabile dal punto di vista atmosferico, con neve, pioggia, ghiaccio, freddo, vento. Purtroppo, pensate, il suo lavoro gli è costato la vita, siamo davvero costernati perché è terribile leggere di queste cose, vedete in una foto il giovane che gioca a calcio, purtroppo non lo potrà più fare e anche questo a tutti gli effetti è da definire un incidente sul lavoro, è veramente agghiacciante quello che è successo. Scuole chiusa a Urbino, Frate Rosa è a Pecchio, lo dicevamo prima dalla prima pagina, ci sono delle chiusure ma non uniformi sul territorio per quanto riguarda gli istituti scolastici, l'allerta meteo resta valida anche per oggi, soprattutto nei comuni dell'interno, c'è l'annuncio di nuove nevicate che fa assumere decisione sulla chiusura delle scuole, anche se si va in ordine sparso. Scuole chiuse a Urbino, ad Apecchio, a Frate Rosa, niente chiusura invece a Cantiano o Pergola. Poi c'è la strana decisione dell'Università di Urbino che oggi comunque farà lezioni, quindi mentre tutte le scuole saranno chiuse nel capoluogo feltresco, l'Università continuerà a svolgere la sua attività. Si parla poi anche degli impianti scistici che comunque ieri erano chiusi nonostante le nevicate, perché in effetti sono state proprio queste copiose nevicate notturne a rendere impossibile l'apertura degli impianti. Quindi la giornata di ieri ha visto tantissime persone, tantissimi turisti riversarsi nei monti della provincia di Pesaro, non hanno sciato, però hanno fatto delle bellissime passeggiate sotto la neve, delle mangiate straordinarie come quelle che sono state fatte da tanti turisti che hanno raggiunto il rifugio Corsini sul Monte Nerone, che si sono consolati con delle bellissime salsicce davanti al camino al fatto di non aver potuto sciare. Blackout, crolli e allagamenti per il maltempo, nuova allerta, vedete la fotocronaca del Corriere Adriatico che ci fa vedere tutta una serie di situazioni che conseguono, dal grandi piogge al freddo, al vento della giornata di ieri sulla costa, per non parlare, abbiamo detto, delle problematiche all'interno per la neve, le vedremo dopo anche meglio con il resto del Carlino. Rito bagnato, ma i cavalieri vanno comunque in piazza, anche di questo poi leggeremo con il resto del Carlino. Ed eccoci a un articolo decisamente, fatecelo dire, piccante, non le rinnovano il contratto da segretaria, ora su OnlyFans guadagna migliaia di euro. La pesarese Arianna Orazzi mi sono trasferito alle Canarie e in due giorni incasso quanto percepivo in un mese. Ci sono le foto poi della giovane bellezza pesarese, pensate, 21 anni, OnlyFans è una piattaforma online che permette a chi lo vuole fare di pubblicare di tutto, da un punto di vista anche decisamente hot, con immagini esplicite, con video espliciti. Questa ragazza ci racconta la sua storia, al di là degli aspetti pratici, che ci fanno intuire che sicuramente è un modo per guadagnare soldi abbastanza facilmente, in quanto poi sono in tanti quelli che vanno a visitare le pagine delle giovani di un po' tutto il mondo, che decidono di fare del proprio corpo questo utilizzo. Nulla di male, certamente, non è una vittoria per la società, da un punto di vista così, sì, fatecelo dire, un po' strutturale, perché questa ragazza dice, per esempio, che lei guadagnava tra gli 800 e 1200 euro al mese, poi non gli rinnovavano il contratto e poi non sapeva cosa fare, a un certo punto ha deciso, ha deciso di prendere la sua vita in mano, ha preso una decisione che, per esempio, l'ha messa anche contro parte della sua famiglia, che difficilmente poteva essere d'accordo con quello che lei avrebbe voluto fare, e via dicendo. Non entriamo nel merito dei particolari dell'articolo, vi invitiamo ad acquistare il Corriere Adriatico per leggerlo, poi ce n'è un riquadro che proprio entra nel vero e proprio specifico, dicendo, ecco cosa mi chiedono i clienti, e vedete Arianna in spiaggia alle Canarie, e quindi si intuisce bene, abbastanza facilmente, di cosa si tratta quando si parla di Only Fans. Andiamo adesso invece a una polemica cittadina che riguarda un palazzo storico, siamo al recupero del San Benedetto, la Regione faccia la sua parte, levata di scudi contro la bocciatura del finanziamento per sistemare il tetto. E di cosa si tratta? Ovviamente sono i vari esponenti delle opposizioni, rispetto all'amministrazione regionale, a sollevarsi proprio in maniera uniforme, dicendo che la Regione non sta dando i soldi che servirebbero per completare la rimessa a posto del complesso del San Benedetto in fondo al corso 11 settembre a Pesaro. Parlano Andrea Biancani, poi parlano diversi esponenti, fra cui anche Paolo Loffreda, tra cui poi dopo anche il Giampiero Bellucci, segretario del PD di Pesaro, Paolo Loffreda che è il responsabile locale per il settore cultura, e via dicendo. Tutti si lamentano con la Regione dicendo che i soldi promessi non sono arrivati, si parla, qui le cifre vanno un po' random, ma in linea di massima credo che la cifra di cui poi effettivamente si fa riferimento per completare questi lavori sia di 500 mila euro che ancora non sono stati versati a chi si dovrebbe occupare dei restauri del San Benedetto e quindi chiaramente c'è questa sollevata, questa alzata di scudi da parte dell'opposizione che dice dateci soldi per finire questo intervento anche perché questo grande palazzo che è bellissimo peraltro, proprio in pieno centro a Pesaro, potrebbe servire a chissà quante cose dal punto di vista culturale. Vedremo come andrà a finire. Capitale della cultura 2023. A proposito, ecco che abbiamo avuto tanti messaggi da nostri amici che vivono a Brescia e Bergamo, che ci hanno segnalato la presenza dei nostri amministratori a tutte le manifestazioni che hanno portato all'inaugurazione di Brescia-Bergamo, Capitale della cultura 2023, a un solo anno dall'investitura di Pesaro, quindi fra 12 mesi saremo noi pesaresi a essere al centro dell'attenzione come Capitale della Cultura, c'è sicuramente tantissimo lavoro da fare, le manifestazioni inaugurali sono state molto belle, sono state trasmesse dalle televisioni, c'era il Presidente, pensate, la Repubblica Mattarella e c'erano anche Matteo Ricci e Daniele Vimini, chiaramente pronti a prendere il testimone quando questo 2023 sarà trascorso e fra circa 12 mesi toccherà a noi. E poi un bel gesto di solidarietà della Società Operaia di Mutuo Soccorso, contributo a Insieme, associazione che sostiene i disabili e le famiglie, e qui vedete il Presidente Emilio Melchiorri, insieme al tesoriere Claudio Olmeda, al Vicepresidente Mario Ruggeri e insieme poi alla Presidente dell'Associazione Insieme, Marzia Paterniani, che riceve il contributo che il SOMS, perché così si chiama in maniera accorciata la Società Operaia di Mutuo Soccorso, ha consegnato a questa associazione, peraltro, un contributo raccolto attraverso una bellissima tombola che è stata organizzata durante le feste di Natale. Complimenti alla Società Operaia di Mutuo Soccorso, al Presidente Emilio Melchiorri, interista DOC, e lui ci tiene che questo fatto venga sottolineato, ma è davvero un'associazione che a Pesaro si fa tanto sentire da un punto di vista sociale, ma anche da un punto di vista culturale, con le tantissime conferenze organizzate dal Paolo Montanari. Ed eccoci poi a Urbino. Eventi, cultura, decoro e paesaggio, questa è la sfida per il Montrefeltro. Lo dice Alberto Bruscoli, che è amministratore delegato di IMAB Group e soprattutto Vicepresidente fondatore del club UNESCO Urbino e Montrefeltro, parla di quelle che sono le grandi potenzialità del territorio di Urbino e proprio di tutto l'interno del Montrefeltro, l'Alto Montrefeltro, quindi la provincia di Pesaro, con le sue bellezze straordinarie, ed effettivamente ci sono davvero tante cose da fare per far sì che questo territorio venga meglio conosciuto e possa essere davvero sfruttato da tutti i punti di vista. Poi, come vedete, Urbino è stata sfruttata anche come grande pista di sci, slittini improvvisati per pazze discese notturne, bellissime queste immagini che ci fanno vedere come gli urbinati, magari tanti studenti, tanti giovani si sono divertiti nei dirupi della città per proprio buttarsi, gettarsi con i loro slittini e divertirsi nella neve. Quindi, al di là dei disagi che poi tanto sono ovvi, che conseguono al maltempo, ci sono anche questi momenti di divertimento e poi bisogna dire che effettivamente fino all'altro ieri non ci si faceva altro che lamentare per il fatto che non c'era la neve sugli appennini, è arrivata come è abbastanza normale che avvenga durante il mese di gennaio, adesso quindi c'è e bisognerà gestire questa situazione. Per esempio, è quello che si riesce a fare difficilmente a Fano, in quanto il litorale è troppo esposto alle intemperie e il grido d'allarme dei bagnini dice che l'erosione si mangia le spiagge, ne risentirà tutto il settore turistico, così non possiamo andare avanti. La burrasca di ieri notte ha inferto un altro duro colpo alla spiaggia di Sassonia fra Bagni Carlo e la passeggiata dell'Isippo, continuano a sprofondare gli scogli che la proteggono dal mare, addirittura una catastrofe annunciata. Si può evitare che si ripeta solo, e dico solo, costruendo la scogliera mancata, affermava ieri Matteo Renzi, il titolare della concessione, che non ha nulla a che fare con il politico toscano. Oggi stesso Renzi dovrebbe essere negli uffici tecnici del comune di Fano per chiedere a quale punto siano le nuove procedure per avviare i lavori a dir poco tribolati e via dicendo. C'è poi tutto il grido d'allarme di tanti gestori di stabilimenti balneari del litorale fanese, che addirittura arriva poi fino a Ponte Sasso, dove qui si parla di un'erosione totale, lo dice Alessandro Mantovani di Bagni Ruig, le scogliere non sono più efficaci perché sono stati effettuati ripristini insufficienti. Quindi davvero è una situazione molto difficile per il litorale fanese, poco protetto dalle scogliere. La passeggiata dell'Isippo, una delle più belle che si possano fare nella città della fortuna, ma non solo, forse in tutto il litorale delle Marche, con questa passeggiata che si inoltra in mezzo al mare fino ad arrivare al culmine del porto di Fano, è in grandissimo pericolo e purtroppo quando arriva il maltempo in questo modo. Poi i problemi e i disagi sono tanti, se non si è pensato a prevenire, a organizzarsi perché ciò non accada, è anche quello per esempio che succede a Fano in centro perché c'è un cornicione a rischio, addirittura è stato chiuso un tratto del corso di Fano per il pericolo che cadessero calcinacci, parliamo di corso Matteotti. Tutto ciò perché, l'abbiamo detto anche prima, brutto risveglio con il boato, la terra continua a tremare, domenica mattina appuntamento classico col terremoto, ieri è stato di tre gradi come magnitudo, l'epicentro è stato questa volta non in mare ma verso l'entroterra e parliamo di calcinelli, saltara addirittura, ma chiaramente poi la scossa è stata percepita dappertutto, quindi continua a tremare la terra delle Marche, invece una buona notizia arriva dalla sanità. Potenziato il servizio di cardiologia, 18 ore per tre ospedali dal primo febbraio aprono ambulatori a Cagli, Fossombrone e Pergola. Una boccata d'ossigeno per la sanità dell'entroterra dal primo febbraio saranno arrivate, saranno attivate 18 ore settimanali di cardiologia fra Cagli, Fossombrone e Pergola. Inutile dire che si tratta di un'implementazione di un servizio essenziale per il compresore del nostro entroterra, annuncia il consigliere regionale dei civici Marche, Giacomo Rossi. Il servizio cardiologico verrà organizzando attivando tre ambulatori settimanali di sei ore, ciascuno nei plessi di Cagli, Fossombrone e Pergola. Allora, c'è tutto poi l'articolo, ma ci piace sottolineare questo aspetto. Sinceramente non è immediato e facile il lavoro di ristrutturazione di una sanità ridotta in macerie dalle precedenti giunte regionali, sottolinea Rossi, e penalizzata dalle carenze organiche strutturali. In attesa del nuovo pianitario sanitario, l'opera della maggioranza che governa la regione dal Presidente Acquaroli, dall'assessore Salta Martini e dal Presidente Nicola Baiocchi della Commissione Sanità. E quindi davvero c'è di che ben sperare. È stato aperto un PAT, un punto di assistenza territoriale a Sasso Corvaro. Sono state avviate alcune importanti strumentazioni sanitarie e via dicendo. Quindi effettivamente si comincia a muovere qualcosa per migliorare l'aspetto della sanità legato soprattutto al Servizio Sanitario Nazionale, quindi alla sanità pubblica nelle Marche. Adesso è di prossima pubblicazione il nuovo piano sanitario, se ne parlerà fra qualche settimana, ma davvero ci saranno delle novità e speriamo che grazie a questo nuovo assetto tante cose possano migliorare. Una notizia che poi riguarda i tartufi e siamo a San Lorenzo in campo dove c'è un'azienda locale che si chiama Buttero Zone che ha inaugurato la possibilità di andare a trovare i tartufi insieme a un gruppo e insieme chiaramente a persone che sono esperte in questa attività a cavallo. A cavallo per trovare tartufi, poi al ristorante a cucinarli. Quindi in poche parole si tratta di organizzare delle bellissime uscite in campagna sui cavalli per chi è appassionata di questo sport, perché di sport si tratta, poi una volta trovati i tartufi si torna al ristorante e si mangiano insieme. Una bella iniziativa anche questa per valorizzare il territorio. Chiudiamo il Corriere Adriatico, ci occuperemo di sport dopo insieme leggendo i due quotidiani. Andiamo a vedere adesso come il Carlino invece affronta il tema del maltempo, ma diciamo che prendiamo spunto dal fascicolo regionale del Carlino Marche. Sapete, il lunedì è un fascicolo un po' particolare, la cronaca di Pesaro è contenuta in sole tre pagine, come vedremo, ma prendiamo lo spunto dal Carlino Marche per parlare della lite scoppiata ieri ad Ancona. È stato davvero un momento di grande paura. Armi, lite in strada, sciocca all'alba, poliziotto, spara ad un giovane. Si trattava in realtà di una sorta di resa dei conti fra tifosi, poliziotti, che è sfociata nell'utilizzo delle armi. Vedete, ci piaceva comunque sottolineare questo aspetto. Si è sfiorato qui la tragedia. Per fortuna poi non ci sono stati morti, non c'è stato qualcosa di irreparabile, ma invece pensiamo che ieri, mentre ad Ancona le cose si sono risolte per il meglio con le armi da fuoco, per esempio negli Stati Uniti per l'ennesima volta non c'è giorno nel quale, proprio in virtù del fatto che le armi da fuoco le possano comprare tutti, uno si sveglia la mattina, decide di andare in un negozio di Chicago e può comprare mitragliatrici che probabilmente in questo momento in Ucraina ancora non ci sono. Ecco, negli Stati Uniti questo è possibile e negli Stati Uniti anche domenica. Dieci morti per una sparatoria in un soborgo di Los Angeles, mentre era in corso la festa per l'inaugurazione del capodanno cinese, quindi davvero è incredibile come le armi da fuoco siano un pericolo costante, possederle può portare a tante conseguenze, ci sono tanti motivi per possedere le armi da fuoco, ma certamente quando si possiedono le armi da fuoco, prima o poi il brutto è che vengono utilizzate, nel 99% dei casi non hanno nulla a che fare con fatti di cronaca, ma basta quell'1% per scatenare possibilità e pericoli come quelli visti ad Ancona o stragi incredibili come quelle che avvengono giornalmente, perché stamattina sentivamo al giornale radio mentre si parlava della strage di Los Angeles, già ce n'era stata un'altra che per fortuna non ha portato a morti sempre negli Stati Uniti, quindi davvero sarebbe ora di intervenire su questo aspetto che non è degno di un paese che, come per esempio gli Stati Uniti, dice di essere il luogo della democrazia, quello è Far West, lasciatecelo dire, qui siamo davvero ai tempi di Clint Eastwood. Vento, neve e alberi abbattuti, ecco l'inverno ed ecco le foto che arrivano da Urbino, abbiamo visto anche noi stamattina la nostra webcam, Urbino sotto 20 cm di coltre bianca, costa battuta da mareggiate, tetto di una palestra volato via, 160 chiamate ai vigili del fuoco, alberi sopra le case a Fanano, a Gradara per il forte vento, 50 interventi dei vigili del fuoco e via dicendo. Quindi il maltempo è arrivato, anche il Carlino sottolinea che a Urbino le scuole sono chiuse ma l'università è aperta. Poi eccoci alla benedizione degli animali in Piazza del Popolo, cavalli in Piazza del Popolo per la benedizione di padre Aldo, nonostante il maltempo, anche quest'anno Piazza del Popolo ha ospitato la tradizionale benedizione degli animali in occasione della festa del loro protettore Sant'Antonio Abate che è stata la settimana scorsa. Bella la descrizione, quindi pensate il grande Luigi Diottalevi è andato a contarli tra gli animali presenti ieri mattina alle 11 ben 32 cavalli, alcuni cani, imprecisato il numero, un gatto e un coniglio nano di quattro anni e chiaramente anche i loro proprietari hanno ricevuto la benedizione. Davvero un bel momento che la pioggia non è riuscito a guastare. Eccoci poi alla notizia di cronache di cui abbiamo già parlato col Corriere Adriatico, la drammatica morte del 22enne sulla Flaminia e vedete proprio aveva 22 anni e guidava un'auto articolato Scania. Ecco qui l'immagine drammatica che ci fa vedere quello che è successo, ha perso il controllo, è stato sbalzato nel vuoto, pensate, vedete proprio lo sportello aperto ci fa capire quello che è successo. Per oltre sette ore la strada è stata interdetta alla circolazione, immaginatevi quindi anche quanti disagi, davvero terribile. E poi attende la ex ma lei non si ferma, lui la colpisce col taser, ha processo per stalking un altro episodio di violenza sulle donne. Boato a Calcinelli, epicentro del terremoto, l'abbiamo detto, la solita sveglia con il tremolio del letto e poi una bella notizia di sport, siamo per quello che riguarda lo sport per disabili. Il protagonista è Giordano Cardellini che per la seconda volta è campione italiano, ma la prima da papà, di una disciplina che si chiama indoor para archeri, tiro con l'arco e è veramente encomiabile la bravura di questo giovane che, pensate, è diventato cieco in seguito ad un incidente qualche anno fa, drammatico, ma lui ha reagito alla sventura, si è comunque costruito un'esistenza assolutamente normale e addirittura è diventato campione italiano per la seconda volta di questa disciplina così difficile, è difficile, pensate, centrare il bersaglio con due occhi, gli occhiali e magari anche dieci decimi, lui lo fa senza vedere, complimenti a Cardellini Giordano che è davvero un campione a soli 31 anni, abbiamo parlato di disabilità anche qualche sera fa con il campionissimo pesarese di Taekwondo, Marco Manzini, è davvero straordinario come lo sport possa farci capire che in realtà la disabilità può non esistere se non esistono le condizioni per renderla tale. Chiudiamo il resto del Carlino, ci portiamo allo sport, partiamo dal fascicolo proprio del resto del Carlino Sport, il lunedì la pagina di sport è corposa, vedete la prima pagina che si concentra sulla Juventus, la Serie A, 3-3 ieri sera contro l'Atalanta, dopo il meno 15 arriva un pareggio, in tanti di noi ieri mattina hanno seguito la straordinaria partita di Yannick Sinner contro il tennista greco Stefano Zizipas, purtroppo persa al quinto set ma davvero il 21enne di San Candido ci ha fatto sognare e sta dimostrando che entro breve potrà entrare davvero nel gota del tennis mondiale. Le notizie di sport legate appunto al resto del Carlino e anche alla penalizzazione di 15 punti, la rabbia della signora, giustizia sommaria, è abbastanza singolare come in realtà gli esponenti della Juventus si lamentino non tanto per i 15 punti che sono stati dati in seguito a ben precise imputazioni, soprattutto sulla gestione finanziaria della Juventus, ma si lamentano perché sono stati gli unici a aver avuto la penalizzazione. In realtà quindi non c'è una difesa vera e propria su quello che è avvenuto, c'è solo il fatto di dire ah ma perché solo noi, secondo noi è un atteggiamento che ci fa un po' capire che in realtà non c'è molta cognizione di causa di quello che è accaduto e non a caso per esempio i tifosi della Juventus addirittura si lamentano dicendo che questa volta è peggio del 2006 quando in quel caso eravamo incolpevole, oggi perché paghiamo invece perché questi puntini puntini hanno trattato la nostra maglia come un oggetto senza anima. Quindi i tifosi forse sono più consapevoli dei dirigenti di quello che di sbagliato è stato fatto negli anni. Poi ci portiamo sulle notizie dello sport locale, eccolo qua, vergogna Benelli rinviata vis Pontedera. Pensate, unica gara in Italia fra i professionisti che non si è giocata per campo impraticabile e il muro di recinzione del lato prato ora sta crollando, vedete la foto col dettaglio. C'è una bellissima intervista poi al piccolo Nicola, pensate un bimbo di nove anni che era andato allo stadio insieme al suo fratello, insieme al suo babbo, si è prestato all'intervista fatta da Davide Eusebi, ha raccontato del suo pomeriggio vicino, per certi versi prende un pochino in giro la situazione, chiamiamolo non più stadio, ma lago Benelli, lo dice anche Nicola, un bimbo di nove anni che per la seconda volta veniva allo stadio. Mi sono divertito lo stesso, ho visto un laghetto grande, però non c'erano i pesci, dice il piccolo Nicola. Sindaco, ce la fa uno stadio asciutto e coperto? Io ho già messo una firma per avere la tribuna prato coperta e asciutta. Certamente la situazione del Benelli è sotto gli occhi di tutti, vedete qui veramente siamo a livelli di, lo diciamo spesso purtroppo, ma d'altronde ci viene spontaneo dirlo, di Amazzonia con queste pozzanghere incredibili, chissà dentro davvero ci poteva essere di tutto, non c'erano i pesci come ha detto Nicola, però è davvero incredibile che lo stadio Benelli non possa essere organizzato in maniera tale da far sì che una partita non venga rinviata, unica in tutta Italia, pensate a quei tifosi del Ponte d'Era che hanno fatto quasi 300 km per venire a vedere la partita e poi sono tornati a casa sotto la pioggia, davvero incredibile, peraltro in una situazione un po' grottesca con l'arbitro che rinviava di qualche minuto la decisione quando era evidentissimo che non si sarebbe potuto giocare, è sicuramente una situazione sulla quale si deve intervenire più presto, non è degna di una città come Pesaro, lo stadio Tonino Benelli, di una squadra che fa la Serie C il terzo campionato nazionale. Invece bella vittoria del Fano, la sottolineiamo, ecco è l'esempio classico, non è che a Fano ieri ci fosse un tempo diverso rispetto a quello di Pesaro, anzi la pioggia era esattamente la stessa, il terreno di Fano ha tenuto, chiaramente era appesantito, ma la partita si è giocata regolarmente, il Fano ha vinto per 2-0 con due gol nel secondo tempo, è riuscita a sbloccare la partita quasi nel finale, c'è stata una prestazione davvero gagliarda dei Granata che hanno portato a casa un risultato importantissimo che permette loro di risalire in classifica a questo punto la zona play-out è lontana e si comincia a rivedere il limite della zona play-off, complimenti al Fano ma soprattutto complimenti anche allo stadio Mancini, al terreno di gioco dello stadio Mancini che ha permesso il regolare svolgimento della partita e il tutto vi ripetiamo a 15 km di distanza invece da quello di Pesaro del Benelli. Poi c'è stato da sottolineare e andiamo a vedere queste notizie con il Corriere Adriatico Sport anche una prestazione purtroppo negativa della squadra di volley pesarese che la Megabox ha perso a Pinerolo, anzi scusate che ha perso a Conegliano ma adesso si sta concentrando sulle final di Coppa Italia che appunto la squadra del Megabox ospiterà Pinerolo quindi grande attenzione per il volley, il volley è uno sport in grande crescita nella nostra città, nella nostra provincia al di là della tradizione legata alle vittorie dei primi anni 2000 della Scavolini che tutti ricorderemo campione d'Italia addirittura a livello europeo poi fra le prime oggi sta tornando il volley femminile ma non solo il movimento del volley molto vivo l'abbiamo visto anche con uno speciale che abbiamo realizzato circa un mese fa con la Montesi Volley di Pesaro è davvero peraltro uno sport che è facile da giocare per tutti è uno sport di squadra meraviglioso quindi tanti complimenti alle ragazze della Megabox perché comunque stanno tenendo alto l'onore del volley della nostra provincia e vedete qui siamo adesso alla VL ce ne occupiamo con il Corriere Adriatico, la VL non muore mai, coach Repesa la vittoria contro Verona è stra importante abbiamo dimostrato una maggiore maturità. A dire il vero poi coach Repesa come ci riporta il resto del Carlino e facciamo continuiamo questo rimbalzo fra i due giornali ci porta alla richiesta dell'allenatore della VL che chiede ufficialmente attraverso i media di potersi allenare almeno una volta alla settimana alla Vitri Frigo Arena. Il problema dell'Aspes è che per riscaldare le grandi astronavi ci sono costi molto più alti che per la semplice palestra nord quindi è chiaro la VL si ritrova a giocare in un campo nel quale praticamente non gioca mai durante gli allenamenti. Repesa chiede almeno una volta fateci allenare nel campo principale. Vedremo se la sua richiesta sarà accolta. Considerate che la VL in questo momento è in una classifica straordinaria e lo vediamo, torniamo al Correa Adriatico, 20 punti, siamo quarti in classifica. Da quanti anni non succedeva? Da quanti anni non succedeva di vedere Pesaro così in altro? A soli 4 punti dalla vetta abbiamo un roster di 10 vittorie e 6 sconfitte quindi è davvero un momento positivo per il basket pesarese. Questo discorso di potersi allenare alla Vitri Frigo Arena a nostro parere andrebbe davvero affrontato in maniera concreta. Vedremo quello che succederà ma complimenti alla VL per la vittoria contro Verona, una vittoria maturata nonostante le tante difficoltà ma la squadra ha tenuto duro, non ha mai voluto rassegnarsi a una possibile sconfitta. Alla fine ha vinto e considerate che Verona veniva da una serie di vittorie e quindi maggiore ancora di più la soddisfazione per i pesaresi, per i tifosi, per tutto l'entourage del club bianco-rosso. Chiudiamo il Corriere Adriatico, ci trasferiamo adesso alla programmazione di Rossini TV per la serata e vedete appuntamento alle 21 e 20 con la nuova puntata di Check Up Obiettivo Salute. L'ospite della trasmissione che Rossini TV realizza in collaborazione con Physioradi Medical Center sarà il dottor Antonio Padolino, medico ortopedico e si parlerà di artrosi della spalla. Un argomento che riguarda purtroppo tante persone, la spalla è una proprio struttura dell'organismo, è una articolazione sottoposta degli sforzi incredibili durante la vita. Il dottor Antonio Padolino ci spiegherà come riconoscere proprio eventuali problematiche legate all'artrosi. Il programma sarà questa sera alle 21 e 20, poi alle 23 e 15, sarà replicato anche domani alle 9 e 30, alle 19 e 15 e via per tutta la settimana. Davvero tante le possibilità di seguire questa trasmissione che è così gradita dagli ascoltatori. Perché? Perché i medici che vengono intervistati da Rossini TV sono chiarissimi nelle loro esposizioni e ne sono in grado di dare consigli davvero utili. Un altro programma del quale poi facciamo riferimento è la partita di rugby che sarà trasmessa questa sera alle 22 ed è l'incontro fra Pesaro Rugby e Civita Vecchia con la vittoria dei pesaresi per un successo importante che comunque migliora ulteriormente la classifica del Pesaro Rugby. Pesaro Rugby, realtà sportiva davvero interessante. Abbiamo parlato della pallavolo, ma non dimentichiamoci del rugby, altro grande sport di squadra che cementa davvero l'amicizia fra coloro che decidono di giocarlo perché è davvero singolare questo sport dove poi in realtà il contatto fisico è così presente, ma è un contatto fisico per certi versi leale, per certi versi davvero improntato alla massima lealtà e nel momento in cui finisce la partita si torna tutti amici e si va come avviene nel famoso terzo tempo dei templi del rugby britannico a bere insieme al pub. Eccoci alla conclusione della nostra rassegna stampa di oggi, appuntamento con l'informazione questa sera alle 19.40, Rossini News da non perdere, le notizie della giornata riassunte nel rotocalco di informazione di Rossini TV alle 19.40, poi saremo in replica alle 20.40, alle 23.30, a mezzanotte e mezza. Vi lasciamo adesso alle previsioni meteo, appuntamento con Buongiorno Rossini con la rassegna stampa domattina alle 7.20, buona giornata a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me, buongiorno al latte dal caffè, buongiorno a chi non c'è, e al mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino vede io vorrei, è un giorno nuovo e spero che sia buono anche per me.